I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Messina a sezione misure di prevenzione su richiesta della Direzione Distettuale Antimafia della Procura della Repubblica Peloritana relativo al patrimonio societario, mobiliare e immobiliare per un valore stimato di circa un milione di euro riconducibile a un soggetto imputato di appartenere all'associazione mafiosa denominata Clan dei Barcellonesi, diretta propagine di Cosa Nostra Siciliana. Sulla base delle risultanze investigative il soggetto colpito dal provvedimento ex appartenente alla Polizia Penitenziaria ed ex gestore di note discoteche situate nel territorio di Milazzo a seguito delle indagini di cui all'operazione cosiddetta dinastia è stato condannato anche in secondo grado per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La sentenza deve essere ancora vagliata dalla Corte di Cassazione. Sulla scorta degli approfondimenti economico-patrimoniali condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo in sinergia con gli specialisti del GICO di Messina viene riconosciuta, secondo l'ipotesi d'accusa, la disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati e la prospettazione avendo riguardo agli elementi reddituali e di fatto che egli viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose. In particolare è emerso un quadro incoerente e sperequato rispetto alla lecita capacità reddituale per contratti di leasing accesi dall'uomo nettamente superiori rispetto al reddito dichiarato. Nel corso dell'attività quindi sono stati sottoposti a confisca due compendi aziendali compresi dei relativi beni patrimoniali attivi nel settore del noleggio autoveicoli e attrezzature per lavori ed ili, un immobile nel comune di Milazzo nonché 8 autoveicoli, 3 rapporti finanziari per un valore complessivo di stima pari a 1 milione di euro.